E niente, abbiamo iniziato a giocare, mi ricordo che era questo gioco proprio, sembra proprio un gioco basic per bambini, con, mi ricordo, il minigioco dove dovevi riempire le forme colorate semplicemente con lo strumento secchiello, quelle cose lì, no? Che mi ricordo la prima volta che arrivamo a quel livello lì, mia sorella non disse niente, io ero terrorizzato. Io mi ricordo che quando passavamo in quella zona lì, perché ci passavamo più volte, ero così. Ok, fermiamoci un attimo e spieghiamo cosa sta succedendo. Il ragazzo che sta parlando si chiama Matteo e mi ha recentemente contattato per raccontarmi una storia. Una storia che credeva mi avrebbe interessato. E aveva molta ragione. Ma facciamo un passo indietro e prendiamo questo discorso molto più alla larga. Perché mi piace l'horror? È una cosa che è da 34 anni che mi chiedo ed ha più di una risposta. La paura ha un effetto positivo su di noi, sia a livello fisico, perché tra il rilascio di adrenalina e cortisolo ci sono questi picchi di dopamina e endorfine che ci fanno stare così bene. Ci aumenta il battito cardiaco, si dilatano le pupille, insomma, il riassunto è che la paura ci fa sentire vivi. Ed è solo per questo quindi che alcuni di noi che amano questo genere decidono volontariamente di farsi terrorizzare dai propri hobby. E a differenza di altre persone riusciamo a goderne perché sai di essere al sicuro guardando un film horror o giocando ad un videogioco horror. Perché sai che ti spaventerai, ma il tuo cervello capisce anche che in realtà sei semplicemente seduto sul divano o seduto alla scrivania al sicuro. Il mio non funzionava così. Lo so che non tutti funzionano così, purtroppo. Un articolo chiedeva, sai perché la gente quando esce dalle giostre pericolose o dal cinema dopo aver visto un film horror è contenta e ride? Per il rush chimico che ha il suo corpo, per l'endorfine e la dopamina. E perché poi torna a casa e sa che non c'è nessun mostro sotto al letto, forse. E queste sensazioni, questi grandi spaventi, sono i momenti della nostra vita che ci ricordiamo di più. Soprattutto quelli di quando eravamo piccoli. Mamma mia, ormai ho perso il conto di quelle scene in cose non horror che mi hanno terrorizzato. E alcune sono molto semplici, oserei dire banali, nella memoria collettiva di tutti. Come gli elefantini rosa in Dumbo. O quello stramaledettissimo tunnel della fabbrica di cioccolato. Gesù mio. Ed è qui che entra in gioco Matteo e la sua mail. Dove mi racconta di questa avventura grafica per bambini, per insegnamento dei bambini, del 1998 per PC, chiamata Forestia. In maniera del tutto random, dall'essere allegro e spensierato con animali parlanti in stile Disney, diventa macabro e inquietante. A questo punto della mail stavo già salivando, avevo già l'acquolina in bocca. Pure i colori svanivano, l'unico colore visibile era il rosso che invadeva lo schermo. So che può sembrare una creepypasta, ma è tutto vero. Perfetto. Mollo tutto, prendo l'una, prendo il van camperizzato e volo da Matteo a fargli un paio di domande. Siamo ad Albissola Marina. Mi ricordo che quando iniziavi il livello arrivava questo drago che ti annunciava tipo l'apocalisse, la fine del mondo. Prima di contattarti stavo parlando con mia sorella e ho pensato come si chiamava quel gioco. Appena ho trovato su YouTube ho scritto gioco spaventoso per bambini. L'hai trovato subito? Come hai indicizzato bene. Quindi questa cosa ti ha segnato, cioè te la ricordi quasi a memoria questa cosa qui. Perché poi del resto del gioco non mi ricordo quasi niente. Cioè era tipo come essere tornati dal Vietnam, no? Perché tu... Sì, poi ogni tanto magari dieci anni dopo rimani fermo, bloccato e ti passano davanti queste immagini della grande quercia. Ti passa papà quercia nella testa. Quindi tu non hai la copia, non hai più la copia? No, non ce l'ho più. È un peccato perché... Sì, sono sicuro che era localizzato in italiano, sicuro al 100%. E avevi molto ragione. Avevi ragione perché c'è localizzato in italiano il gioco, ma è rarissimo. Rarissimo da trovare, soprattutto fisico. E digitale non c'è da nessuna parte. Ma prima di mettere le mani sulla copia di Forestia, fammi fare una piccola ricerca. Fammi capire se effettivamente sia così inquietante come dice la gente, oppure se semplicemente magari la memoria di quando eri piccolo è un pochino distorta. Voglio dire, tutti siamo scappati dalla sigla di X-Files. Certo, io scappavo anche dalla musica dell'Eurovisione quando passava in Rai. Ero terrorizzato da questa sigla. E ve lo giuro su Dio, lo possiamo chiedere a mia madre, giuro su Dio. Eh, ciao mamma, guarda, sto registrando un video e volevo farti una domanda al volo. Sì, dimmi. È vero che io avevo una paura incredibile della sigla dell'Eurovisione in Rai, te la ricordi? Sì, 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 sì. Quando c'era tanto, e tu o andavi via o piangevi, non volevi. Non era un fatto tuo di sensibilità, perché siamo degli idioti nella famiglia di... Eh, siamo un po' scemi, sì, è vero. Tralasciando turbe mie, ho scoperto, cercando, che Forestia è molto rinomato per quella fantomatica scena horror. Forestia, un gioco educativo perfettamente innocente degli anni 90, eccetto... puntini, puntini. Ci sono anche un paio di video di YouTube che lo analizzano, certo, con pochissime visual di qualche anno fa, però vedi, il gioco per bambini non horror più spaventoso. This game goes by the name of... Forestia. Ok, ok, abbiamo qualcosa tra le mani. Io comunque a questo punto della ricerca non ho ancora né giocato né guardato praticamente nulla di Forestia, perché volevo essere spoiler free. E leggendo in continuazione scene horror in cose non horror per bambini, mi ritornano in mente un sacco di scene specifiche, un sacco di immagini. Io credo di non essermi mai più ripreso dalla prima volta che ho visto Il ritorno di Oz per quei cazzo di rotanti. E non è solo che fossero degli uomini su delle ruote, come uno di quegli esperimenti horror nazisti andati male, ma è come li presentano con quelle maschere, con quei primi piani, ma voi siete matti! E che poi crescendo in questo modo, da adulto, queste immagini le percepisci ovunque. Anche in cose che sembrerebbero molto semplici, per esempio Horny Buddy. Questo innocentissimo peluche di cane a cui tu puoi mettere una penna per trasformarla nella sua erezione. Dai tre anni in su, di galera. Ma c'è un problema. Non trovo la versione italiana di Forestia da nessuna parte. E so che esiste, perché me l'ha scritto sia Matteo nella mail, sia l'ho letto in un forum chiamato Crash Bandicoot Zone, dove qualcuno chiedeva proprio di caricare la copia digitale di Forestia in italiano, perché non si trova da nessuna parte. E purtroppo Matteo non trova più la sua di copia. Quindi mi riduco a dover comprarne una francese, sia scatolato, sia in custodia a DVD. E già dalla scatola si può intuire lo stile utilizzato per la grafica di questa avventura. Simil stop motion, ma con animazioni anche 2D. C'è anche un bellissimo manuale colorato che contiene la mappa di gioco. Quanto adoro ste cose. C'è una formica col cappello da pescatore, con la valigia 24 ore, che credo va da lavoro. Bellissimo. Però mi ha dato così fastidio non avere la copia italiana tra le mani, e anche in formato digitale, che ho fatto la cosa che avrebbe fatto chiunque al mio posto. Ho fatto una storia di Instagram chiedendo qualcuno ce l'ha? E con 74.000 account raggiunti, mi hanno risposto soltanto in due. E solo uno nella finestra temporale in cui stavo lavorando al video. Uno in 74.000. Andrea, il salvatore della patria, che ha deciso di estrarre la copia digitale dalla sua personalissima copia fisica, e me l'ha fatta avere, così sono riuscito a giocare alla copia italiana di Forestia. Vaffanculo! Rispolvero il mio computer con Windows 98, installo Forestia, cosa tra l'altro che non facevo da tanti anni, e lo faccio partire. Inizio una nuova partita. Lui mi chiede di mettere il nome e la mia età. Scrivo Karim, e questo nome è già stato usato. Sono in pericolo? Ditemelo se sono in pericolo. In che senso è già stato usato? Quindi il gioco mi conosce benissimo, faccio finta di niente, metto io Tobi, e inizio una nuova partita. Ciao e benvenuto, visitatore. Così sei venuto a dare un'occhiata alla nostra bella foresta. Vengo immediatamente accolto da Sam, questo terrificante coniglio che ci farà un po' da Virgilio, che ci accompagnerà nella foresta e ci insegnerà l'utilizzo di tutte le icone e di tutti i tasti. Conosco questa foresta come le mie tanti. Pocchio a testa! Dice di avere qualcosa per me. Tira fuori un'ampolla, ne fa cadere una goccia per terra, c'è un'esplosione di luce e un uccellino muore. Esplorando un pochino la mappa, incontro uno dei personaggi chiave di tutta l'avventura. Papà Quercia. Questo accogliente e saggio o brobrio disfunzionale dispensa consigli, accompagnato da una non meno inquietante Betulla. Ehi amico mio, perché non vai a giocare con lui? Ma non facciamo in tempo a scambiare due convenevoli che arriva questo fastidiosissimo scogliattolo che inizia a rompere le balle. Non lo sai, non lo sai. Ragazzi, stanno zitti, stanno zitti. Papà Quercia e Betulla, che non volevano fare altro che farsi un sonno, dicono, senti, portatelo di là sto rincoglionito, vedi cosa vuole, inseguilo, perché noi vogliamo riposare. Così staremo un po' in pace. Sì, 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 grande, grande. Quindi tu lo insegui in mezzo alla foresta, fino a casa sua, e lui ti invita a giocare a una sottospecie di gioco dell'oca, dove devi tirare il dado e in base alla casella in cui finisci devi rispondere delle domande, devo dire, anche abbastanza specifiche sugli animali. A volte molto semplici, tipo come respirano i pesci, a volte molto più complese, per esempio, ti fa sentire il verso di un animale e tu devi indovinarlo. E io l'ho indovinato. Per culo. Esatto, hai un altro tiro. Tra l'altro questo scogliatto non è soltanto un rompicoglioni, ma è anche un pezzettino di stronzo, perché ogni volta che sbagli una domanda è lui ad andare avanti di tre caselle. Così, perché se le ha inventate lui le regole. La risposta non è esatta, vado avanti io di tre caselle. E immediatamente si fa notte. Papa Quercia nota che Sam è sopra una torre di avvistamento e ti chiede di raggiungerlo. Io ci ho messo un bel po' per raggiungerlo, perché la foresta è un po' complicata da navigare fotografia per fotografia, un po' come se fosse Google Street View, ed essendo notte fatta con un filtro blu e basta, non si capisce esattamente cosa i tuoi occhi stiano guardando a volte. E tutto questo senza musica, ma solo con i rumori di fondo, e sembra davvero di essere dentro una foresta perduti. Ma tutto questo si annulla quando camminando trovo una musicassetta. Che c'è? Non vi è mai capitato di camminare in mezzo alla foresta e trovare un CD musicale con una colonna sonora completamente fuori luogo. Capita, eh? E dopo quattro ore e un quarto finalmente riesco a raggiungere Sam su questa torre che voleva semplicemente farmi vedere una nuova costellazione, il Dragone. Questa costellazione è chiamata il Drago, è bellissima. Bene, ora sono stanco, vado a dormire. E niente, solo questo ci voleva dire, voleva solo farci perdere un po' di tempo, tanto che poi dice pure vabbè, sono stanco, vado via, e anche noi ci corichiamo in cima alla torre. Ed è lì che inizia l'incubo. E questa sezione che sta per iniziare di gioco non è una cosa che arriva gradualmente, ma di punto in bianco vai a dormire e ti svegli all'inferno. Tutta la mappa è ricoperta di rosso fuoco e c'è questa musica inquietantissima in sottofondo. Ad un certo punto in lontananza vedi arrivare un Drago con gli occhi illuminati che ti sorpassa, fai un passo avanti e trovi uno degli animali della foresta rinchiuso in una gabbia. Vai da lui! Presto! E questo è solo l'inizio, ma voi immaginatevi la scena di un bambino di 4-5 anni seduto in camera da solo che sta giocando un gioco educativo e vede una cosa del genere dal nulla. E se non mi ricordo male Matteo mi ha proprio detto che gliel'hanno dato a scuola. E mi ricordo che il gioco infatti me l'aveva dato l'asilo in cui ero stato e ci avevano dato non mi ricordo se a ciascuno di noi o solo ad alcuni questo gioco che era appunto Forestia. Pensa ai compiti a casa tema forestia svolgimento Dio mio Dio mio moriremo tutti Quindi tu parti alla ricerca di questo drago per salvare la situazione durante l'esplorazione della mappa non so come dirvelo tu trovi in mezzo alla strada i cadaveri degli altri animali della foresta e se interagisci con loro vedi la loro anima lasciare il proprio corpo in un gioco educativo come fa a essere legale questa cosa quindi cerco di medesimarmi in un bambino sei nel panico più totale non sai dove andare non sai cosa fai hai una paura fottuta quindi cerchi di trovare la cosa più confortevole e familiare che ci sia in Forestia papà quercia di solito nel gioco quando tu sei bloccato vai da loro e sono quelli che ti dicono come proseguire esatto ma è morto cazzo è come se il virus di The Last of Us avesse colpito gli alberi parlanti di Gardaland la distruzione è totale è tutto in rovina e sono tutti morti è anche vero che se sbagli strada nella mappa all'improvviso appare un mago rapper che con il suo beat leggermente fuori luogo potrebbe rovinare l'atmosfera ma non ci pensiamo non ci pensiamo in una delle strade secondarie c'è anche un jumpscare mi trovo davanti ad un portone vedo un signor oscuro uscire e lasciare la chiave nascosta rubo la chiave apro il portone e mi ritrovo davanti ad uno scheletro parlante se tutti i cristalli metterai al loro giusto posto noi certamente potremo star meglio salgo sopra la torre e vedo una serie di cristalli ed è lì che mi ricordo un'altra cosa che mi ha detto Matteo uno nei commenti ha scritto ho provato a mettere i cristalli nella posizione sbagliata e me ne sono pentito e tutti i commenti gli hanno scritto ma cos'è successo e questo non ha risposto no questo me l'assegno tu piccolo vorioso e tutto ciò mi rende ancora più forte hai perso questa occasione addio ragazzi ma che deve succedere ancora c'è manca solo lo sviluppatore che con uno sgabello me lo spacca in testa e abbiamo l'horror definitivo ricomincio da capo questa sessione infernale trovo il drago che anche lui pur essendo un personaggio buono ha una presentazione molto inquietante mi dice dove andare trovo la posizione esatta dei cristalli torno alla torre li posiziono e finisce l'incubo e si scopre essere letteralmente un incubo perché stavamo sognando ma non ti preoccupare i draghi non esistono o così pensavo ho liberato forestia dalla maledizione di Morhul il terribile stregone o forse è stato solo un brutto sogno no non lo era ho ancora una foto del drago è assurdo è bellissimo ti lascia anche il dubbio di cosa sia realmente successo quindi potrebbe non essere un sogno quindi potrebbe essere tipo una visione del futuro mi ricorda quella scena di Smallville dove una signora anziana vede il futuro di Lex Luthor ed è lui in un campo di girasoli che piano piano iniziano a morire quando lui li tocca ed inizia a piovere sangue la signora anziana dopo che ha la visione muore e questa sezione è esattamente così ma diecimila volte peggio è stata una delle esperienze più inaspettate della mia vita perché è nata dal nulla ed ha portato alla conoscenza di un qualcosa che non avevo mai sentito prima d'ora che ho provato con le mie mani e ho potuto confermare tutto quello che ho letto su internet per mesi questa è una perla che va salvaguardata ed è esattamente quello che ho voluto fare ho chiesto il permesso ad Andrea di poter caricare la versione digitale di Forestia in italiano su internet archives in modo da salvaguardarla averla a disposizione di tutti nei secoli dei secoli fondamentalmente e sono molto felice di questo discepoli benvenuti tu lo sai cosa devi fare per proteggere la tua connessione? devi usare NordVPN dove vai? ti ritrovi perduto in una foresta come Dante e all'improvviso trovi una misteriosa connessione libera ti fidi? non ti fidi? con NordVPN non hai questo dubbio mamma mia metti caso che la foresta si trovi in Cambogia e hai bisogno di guardare contenuti del tuo paese che cosa fai? uso NordVPN col codice sconto Yotobi bravo e attivando la threat protection potrai avere protezione contro malware e siti dannosi scaricatelo bravi con il codice sconto Yotobi in descrizione e grazie a tutti Grazie a tutti.